Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Com'è nato l'amore fra Kate Middleton e William? Il principe l'avrebbe conquistata con un regalo da 147.000 euro. Incredibile ciò che è venuto fuori.Riconquistata regalo prezioso Kate Middleton e il principe William hanno festeggiato nella giornata di ieri il loro anniversario Sono arrivati già a 11 anni poiché la coppia si è sposata esattamente nel 2011, il 29 aprile Il loro matrimonio era stato annunciato circa sei mesi prima, nel novembre 2010 Ma veniamo al dunque e vediamo come William ha conquistato l'attuale duchessa Kate Middleton Innanzitutto sottolineiamo che non stiamo parlando della prima volta in cui William ha conquistato il cuore di Kate Bensì di come il principe abbia chiesto a Kate di sposarla Ottenendo un sì da parte di Kate, possiamo dire che William ha ufficialmente conquistato Kate Ma come lo ha fatto? Kate Middleton, ecco come William l'ha conquistata la prima volta Non crederete alle vostre orecchie ma il principe avrebbe chiesto a Kate di sposarla Dandole in dono uno degli anelli più preziosi e ammirati della Terra Stiamo parlando del meraviglioso anello dalla pietra blu che portava al dito le di Diana Diana, la madre di William ha lasciato ben custodito il suo anello, il quale adesso viene indossato dalla duchessa Kate Ebbene sì, cari lettori, avete capito bene, William ha donato a Kate l'anello di sua madre E quando costa quell'anello? Beh ovviamente si tratta di pietre e materiali unici ed estremamente preziosi e dunque per questo motivo non si tratta sicuramente di un anello di basso prezzo Al contrario, l'anello di Lady Diana costa ben 123.000 sterline Se prendiamo questa cifra e la convertiamo in euro, non ci resta che notare che si tratta di 147.000 euro Dunque il 16 novembre 2010, Kate Middleton che allora aveva solo 28 anni, spoggiò per la prima volta l'anello con lo zaffiro blu Quell'anello scelto dal principe Carlo per Diana, la quale adorava le pietre blu poiché si intonavano perfettamente con i suoi occhi Kate Middleton William.Ma l'anello ha subito alcune piccole modifiche per adattarlo al dito di Kate Sono state infatti aggiunte delle piccole perle di platino all'interno per poterlo stringere e far sì che questo non dovesse essere rotto e risaldato per far sì che questo possa essere indossato adeguatamente da Kate Ancora oggi dopo 11 anni, Kate indossa gelosamente il suo anello, dalla quale non si stacca mai L'anello fu pagato da Carlo 28.000 sterline ma ad oggi è stato valutato ben 123.000 sterline Questo però corrisponde solo al valore del materiale utilizzato Aggiungendo il fatto che questo ad oggi viene posseduto dalla famiglia reale e per via della sua storia, l'anello ha oggi un valore inestimabile Voi che ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao